In diretta da Asti, Palazzo Alfieri, Duyador 2022, domenica 11 di settembre e una domenica che introduce la festa della Duyador. Fino al 18 di settembre tanti eventi che ci aspettano e tanti incontri, come quelli che vi stiamo raccontando in radio, in tv e su web, su RBE Radio TV. Abbiamo con noi Maurizio Spandonaro della Unione Industriale, Confindustria o non industriale, va bene Maurizio? Benissimo, Confindustria e Asti. Ok, di Asti, ecco, il ruolo della Confindustria di Asti, Maurizio, un appuntamento importante, settembre è il mese della ripartenza e mi piace sottolinearlo e si riparte finalmente a pieno regime. Grazie Claudio, allora buongiorno a tutti, parto proprio dalla tua ultima sollecitazione, ripartenza, siamo contentissimi di come stanno andando i primi giorni di Duyador perché ieri sera abbiamo superato i numeri di pre-pandemia come degustazioni servite e questo per noi è un motivo di orgoglio ma di anche felicità per il fatto che di nuovo si può stare insieme, si è di nuovo tutti insieme e la gente apprezza questo momento. Allora, il ruolo di Confindustria e Asti in tutto questo è aver, oramai siamo alla settima edizione, raccolto i principali marchi di Vermut, di produttori di Vermut, aderenti al sistema Confindustriale, aver chiesto la loro collaborazione e aver potuto in questi sette anni far degustare decine di migliaia di cocktail, quindi miscelazione o impurezza, Vermut prodotti sul territorio e questa è un'esperienza bellissima. Abbiamo parlato di vino, abbiamo parlato di Barbera, abbiamo parlato di vini del Monferrato, apriamo un altro campo, apriamo un'altra visione verso il Vermut, un altro prodotto che rappresenta il Piemonte, rappresenta evidentemente l'Astigiano, quali sono le iniziative, che cosa potremmo scoprire in questa Duyador 2022 attraverso il Vermut? Allora, noi quest'anno siamo riusciti a raggruppare almeno 50 etichette di Vermut nelle varie tipologie, quindi rosso, bianco, dry o extra dry e ambrato, che possono essere degustate, come dicevo prima, o in purezza o in miscelazione, quindi grandi cotti. Il Vermut, come tutti sanno, è un prodotto che arriva dall'antichità, perché i vimini aromatizzati già epoca romana si conoscevano, ma poi c'è stato, i nostri nonni, e se venite in Palazzo Tolenghi, che è un bellissimo palazzo dove nel cortile appunto facciamo queste degustazioni, potrete vedere dei manifesti degli anni venti che ricordano appunto il fatto che i nostri nonni bevevano il Vermut in purezza. Poi è venuto il momento dei miscelati, dei grandi cocktail internazionali, per citarne alcuni, americano, negroni, tutti a base Vermut e quindi questa settimana tutti a bere il Vermut a Palazzo Tolenghi, ci sono poi delle iniziative collaterali, questa sera, mercoledì sera e domenica prossima, grande gruppo jazz che verrà ad aglietare la nostra serata, un nome su tutti, Felice Reggio, grande trombettista stigiano, di origine, però oramai alla ribalta internazionale, e poi venerdì avremo un contest Cioccolato Vermut, un abbinamento spettacolare, ci sarà Guido Castagno che racconterà di questo abbinamento insieme a Stefano Berta del Consorzio del Vermut di Torino. Diamo qualche numero, Maurizio, permettimi, il ruolo del Vermut come brand e soprattutto il rapporto, si parla anche di questo alla due via d'ora, ovviamente c'è anche il B2B, c'è la possibilità di, come dire, ribadire l'importanza di questo marchio, abbiamo parlato di cocktail, di Stati Uniti, insomma, Vermut nel mondo, prospettive per il 2023. Allora, Vermut è fatto ovviamente da grandi produttori, ma anche piccoli produttori che hanno una crescita esponenziale, perché è un prodotto che sta andando veramente forte su tutto il mercato internazionale. Oggi possiamo pensare di avere oramai dei numeri che, ripeto, sono importantissimi, soprattutto per queste piccole aziende di nicchia, perché un conto è pensare ai grandi marchi che sono distribuiti, ovviamente con una modalità importantissima, ma anche queste piccole aziende stanno diventando importantissime sul mercato internazionale e conosciutissime. E ad asti lo potete sciogliare. Ecco, un'ultima considerazione e suggestione riguarda il concetto di purezza del Vermut. Come si può coniugare il concetto di purezza del Vermut con grandi marchi, grandi brand, produzioni ovviamente che devono soddisfare la domanda di tutto il nostro pianeta, insieme a quelle produzioni piccole, minime, che rappresentano forse, anche se vogliamo, il futuro, perché si parla molto anche non solo di globalizzazione, ma ritorno al locale? Allora, lo si può coniugare favorendo la realizzazione di iniziative come la Duia d'Or, dove la persona può andare a ricercare marchi e tipologie che difficilmente ritrova in un pubblico esercizio. Quindi, momenti di divulgazione. Noi, in periodo pandemico, non si poteva fare quello che si sta facendo oggi, ma non ci siamo fermati, abbiamo iniziato a fare delle giornate divulgative, quindi a numeri piccoli, però iniziando a raccontare, partendo dalla storia del Vermut, ad arrivare a quelle tipologie di consumo. In percentuale, quanto è importante il ruolo della comunicazione? Cento. Io pensavo già a un sessanta. Facciamo così, è ovvio che il prodotto c'è ed è importante divulgarlo, però, e quindi la comunicazione è essenziale per poter trasmettere la conoscenza alle persone. Sono molto curioso, Maurizio, di aver pazienza. Il Vermut in purezza, un Vermut che per forza di cose può essere sempre diverso in base ai tanti produttori? Assolutamente sì, sono ricette segretissime che si tramandano alle aziende. Non me la direi mai. Non la so. Non ci credo. E quindi ogni casa produttrice è gelosissima della sua ricetta e non viene divulgata. Meraviglioso. Venite a scoprire il Vermut Palazzo Ottolenghi. Palazzo Ottolenghi, buongiorno a tutti, vi aspettiamo. Grazie. Grazie. Grazie.